musica 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 amici bentornati al vlog al gallo vlog 91 iscritti ora grazie i nuovi iscritti e siamo qua a casa di giusti che sta giocando all xbox al lisbos comunque ciao ragazzi ciao cosa ci fa una portiera in casa tua? portiera di una macchia è un'opera d'arte mobile un'opera d'arte automobile vai fracca, fai quello che devi fare ah no dai almeno sei pantaloni no no scusa non ti parlo più amico Henry come andiamo col peso mi sono pesato sono 67 70 signori sei arrivato all'obiettivo quindi no sono all'obiettivo quindi signori grande tripletta tripletta sei pronto? aspetta no fatti tagliando ad i cambi dell'olio faccia… dai ci fai cambi dell'olio? ah… non sono solo le fighe qua stai contento? no la voglio no la voglio Fagli assaggiare con una goccina Questa volta è gocciata Dammelo vosso, dammelo tu No, voglio Porca troia Aio, fai di vedere la chitarra Aio, ti faccio vedere su vlog Su vlog Fai di vedere la chitarra La chitarra, vedete Allora la compriamo in Sardegna Costa solamente 100.000 euro Aio E qui si mangia una bottiglia di knusa Volevo dire un po' di filet ferro Però se dovevo mettere il knusa risparmio anche su filet ferro Henry fammi una sola Una sola sardo Canta mita azienda Mi chiede Ma purtroppo io non li siete azienda Ti piace il sardo non siete azienda E' come per un brecciano Non conoscerò una canzone almeno di Charlie Cinelli O di Pier Gordo Cinelli Allora Sai questo cosa ti porta? Aio Ma ha fatto male Perché tu rinneghi le tue origini sarde Non puoi, devi imparare di t'azienda Imparerò in t'azienda Per il 30 di marzo Va bene Per il 31 Perché il 31 sarà la festa Devo imparare quando Io ascolto Non creare l'accento Cazzo Diretto La punizione a spalla diretto Oh Oh Eh no Mi ha preso il nervo Ma te prendono sempre il nervo Com'è possibile E io c'ho i nervi fuori Fia Ah porco Ah 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 Un po' porco Grazie per l'autocensura Ah 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 E' stata cattivissimo Allora Lui è gentile perché mi dà i colpi sulle spalle Lo stesso gran bastardo Intervista di merda Chiedo diritto No No Cosa mi hai dato? Vieni C'è fracca Figa ma che pensi un minuto giù dell'acqua Che sono i miei ragazzi E' un po' porno E' un po' per l'intervista 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 E' questo per quanto dura? Ciao Sì ciao Ditto che è casa tua Vuoi fare te l'onore della buonanotte? No Comunque lo facciamo eh Buonanotte Un buon lunedì di merda tutti Perché se io c'ho un cappello al posto Esatto perché è oggi domenica No vabbè dai Buon lavoro per tutti quanti No comunque ragazzi Va bene così Io metto sempre in giù così la trecana Va bene così Va bene Va bene No No Insieme alla buonanotte 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 E insieme Buonanotte Eee Eee V geloo Vì 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 Ciao